Grazie, grazie, grazie a tutti. Benvenuto mister, salve! Sono felice di poter avere questa possibilità di poter allenare una squadra così importante come il Napoli. Ringrazio della fiducia il presidente dell'Aventis e adesso cercheremo di fare un campionato tranquillo. Il nostro obiettivo è la salvezza, quindi cercheremo... Io mi ispiro un po' a Guardiola, infatti il presidente subito, appena sentito Guardiola, mi ha dato l'alloggio della Guardiola qui a Castelvolturno. Mister, scusate, ci vogliono gli acquisti. Ho parlato, presidente, cercheremo di avere qualche grande acquisto tipo maccarone, tipo Guarenti, che sono tutti giocatori forti che meriterebbero per l'appunto di venire qui. No, 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 capiamoci, mister, qua noi aspettiamo una reazione, diciamo a lui i pacchera faccia, ma siete nati a Napoli, vai, Sarri, vai! Cos'è? La serie A? Mister, sono venuti a segnare a casa nostra, di domenica. E non sono. Ci potevano stare creati? Oh, ci stavano, mister. E ci hanno eliminato l'Europa League. Chi se non ne hanno fatto a casa può acconciare? Eh, sono. Ce l'ha mai appigliato. Sì, però, mister, ora l'Europa League è lontana, mi ha pensato prima una campionata. E me ne fotte, e dove sta? No, eh. La tagliabile. Sì, ma si ha da trovare un sistema di gioco, mister. Quella non è una coppa che si può vincere facilmente. Allora mi sono spiegato. Mister, ma ci hanno pensato buono a come ci hanno muovere in campo. Le altre squadre tenono i campionati, capite? E che ci ha pensato, Dancio? Eh, ci ha già pensato. Se c'è stato un tifoso messo in campo, ci stava a pensare? No. E se ci stiva tu ci ha pensato? No. E tu? È giusto, mister. Però a me ha capito come a me fa. Non è una cosa semplice. Ti ha stato detto, invece. Come si rileva a fare benitez? Eh, eh, eh. Prima. Ma è tardi. È giusto. Bravo, mister. Così ti vogliamo. Gonzario, la serie A. Sì. Sì.